Andiamo al segno del Capricorno, giornata che parte ancora molto bene, voi siete animati da una grande intraprendenza in questo periodo, grazie a Marte che transita proprio lì, in casa vostra, nel vostro segno, e quindi siete pronti a ripartire, siete pronti a lottare, siete pronti anche ad affrontare eventualmente degli avversari, dei nemici che possono palesarsi all'improvviso in questo periodo e di vincere poi determinati scontri e battaglie. È chiaro che la Luna poi nel segno del Sagittario, nel corso del pomeriggio e della serata, vi farà sentire un po' il peso di questo clima un po' surriscaldato che vivete, sia in ambito lavorativo ma anche in ambito sentimentale, avrete bisogno di distendere un po' i nervi, di rilassarvi e quindi cercate di organizzare una serata tranquilla. Andiamo al segno dell'acquario, Luna che passa nel Sagittario.